Anteprima di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 22 gennaio, ore 21 e in replica domenica 24 gennaio, ore 14.30 su Viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre. Una puntata dedicata a Casartigiani con la quale avremo modo di analizzare le problematiche relative al territorio di Taranto, alla situazione socio-economica, considereremo il rapporto con le istituzioni, quindi con gli enti locali e con il governo, considereremo le prospettive di sviluppo. Insomma una puntata con Casartigiani e le rappresentanze di categoria e gli ospiti Stefano Castronuovo, coordinatore regionale di Casartigiani Puglia, Mimma Annicchiarico, presidente provinciale di Taranto di Casartigiani, Giacinto Fallone, presidente della categoria autotrasportatori di Casartigiani Taranto e ancora Ivano Mignogna, presidente della categoria acconciatori ed estetica di Casartigiani ovviamente e Dulcis in fundo Federico Grico, presidente di Asso Marmo. Questo nella prima parte. Nella seconda parte avete visto cosa è successo sabato 16 gennaio, allorquando nella sede provinciale del PD l'onorevole Michele Pelillo, parlamentare di questa Repubblica, ha compiuto un atto estremamente antidemocratico, vietando il mio ingresso, la mia partecipazione alla conferenza stampa definendomi non giornalista, mi ha detto non sei un giornalista e mi ha definito persona sgradita. Vi manderemo tutti gli spezzoni, tutti i contributi, molti li avete visti sui social, ma ce ne saranno altri che abbiamo voluto proprio secretare e darveli in esclusiva per Polifimo. Cos'altro dirvi? Mettetevi comodi in poltrona, azionate il telecomando, canale 93 nel digitale terrestre e Polifimo è con voi. Polifimo, la TV senza padroni, l'informazione libera della città. I nostri sforzi per poter sempre dire la nostra e raccontare anche la vostra. Buona visione.